Vanno a rilento i lavori di costruzione del nuovo viadotto stradale che supera il torrente torre tra Viscone e Nogaredo e del nuovo assetto viario che eliminerà, una volta concluso, il famoso incrocio tra le provinciali Palmarina e Triestina. Da alcune settimane il ritmo nel cantiere è decisamente rallentato, se non addirittura azzerato. Non si capiscono le esatte cause, ma il tanto sospirato taglio del nastro, al momento, salvo clamorosi colpi di scena, è ancora un miraggio. Opera fondamentale per il collegamento veloce tra il casello di Palmanova e le zone artigianali e industriali dei comuni della fascia sudorientale del manzanese, la stessa, una volta terminata, darà più consistenza e sicurezza nella sua percorribilità. Oggi impossibile causa il vecchio ponte fuori dai canoni moderni rispetto alla sua concezione oltre 50 anni fa. La popolazione è preoccupata e dal palazzo non vola una mosca. Le male lingue però sempre operative parlano di un brutto affare che di fatto ne frena l'ultima azione del cantiere e di troppa fretta da parte di qualcuno in vista delle scadenze elettorali che di fatto ne hanno insabbiato il suo termine. Ci auguriamo che la situazione si sblocchi e spazi via come labora quest'aria viziata che si respira nelle ultime settimane.